Musica Amici di Rete55 ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale Bianco Blu settimana con tre partite buonasera Andrea Macchi, Andrea Scalbi, Alessandro Bianchi buonasera a tutti Alessandro ti vedo triste nonostante hai assegnato il tuo pupillo è il gozo una grande azione e un gran gol vabbè insomma abbiamo preso partiamo dal principio è un casino è un disastro vabbè insomma il tifoso è così siamo così noi siamo tifosi e quando esulti a volte ti deprimi però non dimentichiamo che da dove siamo partiti dico partiamo da domenica visto che magari tanti non lo sanno però abbiamo perso senza colpo ferire a Trieste quella è stata difficile da mandare brutta sconfitta la metto al pari di quella di crema dell'andata diciamo come prestazione poi mercoledì invece un buonissimo primo tempo contro il Novara chiuso meritatamente in vantaggio poi nel secondo tempo il Novara ha meritato il pareggio è comunque una squadra con dentro dei giocatori molto molto importanti per la felicità di qualcuno che ci segue ha segnato Vutai che forse è il primo gol da quando è tornato a Novara dopo la caterva di gol dell'anno scorso in Serie D adesso chissà se si ripeterà da qui al fine stagione però diciamo che le stelle del Novara sono tante e distribuite in tutti i reparti noi dal canto nostro siamo in difficoltà sia fisica che tecnica adesso permettimi di dirlo probabilmente il problema è più che altro psicologico la squadra è involuta ha un po' paura secondo me è quello il vero problema è quello perché fisicamente non puoi fare un primo tempo brillante il secondo tempo sei calato ma non è che sei calato perché sei calato fisicamente secondo me stiamo parlando con Novara beh però hai avuto i soliti problemini è brutto da dire ma il lomba che esce che sono usciti diciamo due difensori che tenevano in piedi Saporetti Saporetti perché fino a quel momento cosa ho detto? Sportelli, Sportelli è subentrato è subentrato vabbè però sull'azione del gol eh poteva fare meglio poteva fare meglio anche se io vabbè dovevamo parlare di altre cose però fammelo dire io non lo so voi tutti hanno detto che non c'entra niente sull'azione del gol il portiere non c'entra niente Molinari non c'entra niente però un tentativo di andare a cercare quella palla che arrivava a due al loro sul secondo palo due percorsi di pensiero secondo me non è colpevole del Favero però no non ho detto colpevole nel senso che come qualche gol che ha preso ma come se ne ha salvati tanti eh però questa è un'analisi così è stata un'azione un po' paradossale ha sbagliato Sportelli in uscita all'inizio e il gol nasce lì Fietta ha cercato in tutti i modi di andare a chiudere su Gonzales ha crossato di destro lui con Mancino è venuto a fare una traiettoria che si sarebbe secondo me comunque infilata e del Favero è rimasto sorpreso secondo me allora ti dico non è che uno dice è colpa di del Favero attenzione però sai quando tu vedi un portiere che non tenta un qualcosa e la dà quasi come per scontata che non non riesce io sono per i portieri che si tuffano quando serve secondo me mercoledì non c'era niente da fare va bene mi arrendo no 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 sono le due sono le due scuole di pensiero come diceva Ale sai che preferisco altri portieri del Favero questo siamo stati anche abituati bene negli ultimi anni però secondo me lì no ecco sottolineando un aspetto positivo grande partita di Nico che quindi dopo l'infortunio sta tornando a parte il gol anche su ottimi rendimenti durante la gara e anche Stanzane ha giocato molto bene sì e poi avrei visto in panchina purtroppo solo in panchina speriamo di vederlo presto il nostro Bustocco che è Rossi Domenico che speriamo si sia ripreso bene dall'infortunio che ha avuto un grave infortunio a proposito di Bustocchi Piran dal primo minuto come esterno ha fatto una partita meravigliosa penso sia lui che Nico i migliori in campo quel tiro che ha fatto ma lui ce l'ha no no ce l'ha però voglio dire quei piccoli episodi che cambiano la partita sul suo tiro il portiere ha fatto una grande parata e ha fatto la parata come deve fare un portiere cioè andando e mandando la palla sull'esterno perché se fosse stata un attimino più avanti c'era lì Piu se non sbaglio che avrebbe potuto ribadire il re sicuro? ultimamente sono un po' meno sicuro Piu? no tra l'altro appunto apriamo una parentesi visto che si è tagliato la testa niente di grave perfetto questa è la cosa più importante e poi volevo appunto concludere incredibile come Gonzales autore di una partita meravigliosa secondo me assolutamente la carta d'identità non si è sentita assolutamente nel pallone che ha toccato peggio ha confezionato l'assist perché era proprio un pallone sporco di destro che non è il suo piede dopo aver fatto 90 minuti tocchi meravigliosi con quel pallone sporco ha trovato l'assist per Butai che è stata una doccia abbastanza gelata con cui ripartiamo da questo punto ah beh questo assolutamente sì Mauro guardiamo la classifica allora dobbiamo? dobbiamo erano abituati così bene da stare da quella parte là no per l'amor di Dio no no ma va benissimo così se dovesse finire così il campionato a me va benissimo assolutamente anche perché abbiamo tantissime squadre in pochissimi punti infatti noi siamo a pari merito con 44 punti con la Juventus Next Generation che incontriamo domenica con il Padova con il Novara quindi possiamo essere in questo momento saremo tecnicamente fuori dai playoff solo per la classifica buzza considerate che di quelle che ci stanno dietro forse solo una ha speso meno della Pro Patria sì sì incredibile poi no per sottolineare la classifica corta basta guardarla a un minuto dalla fine la Pro Patria era sesta da sola si è trovata dodicesima giusto per far capire quanto si è schiacciata quindi ancora tutto da vedere e Virtus Verona e Arzignano stanno veramente volando quindi va bene ma fa niente noi pensiamo alla prossima chi è in caduta libera è l'Albino Leffe l'abbiamo già detto nella scorsa puntata giochiamo mica quando giochiamo con l'Albino Leffe io per favore Ale preferisco non commentare ma poi tra l'altro no però nel senso ha perso ancora non me lo aspettavo ancora domenica è proprio indischiata in zona è questo il problema che non è mica che vengono lo stadio storico però c'è anche da dire che l'Albino Leffe negli ultimi 5 anni ha fatto già due retrocessioni poi sanate solo dei ripescaggi quindi prima o poi deve succedere è brutto da dire ma deve succedere ed è in caduta libera comunque veramente come Piacenza anche e soprattutto visto che la Triestina sta rinascendo eh beh la Triestina c'è andata a vincere a Renate 4-2 e probabilmente andrà in play-out e si salverà 4-1 beh ma è nel play-out può anche salvarsi perché non è detto mancano ancora sei partite o sette? sei partite con tra l'altro all'ultima giornata a Trieste arriva la Pergolettese che potrebbe essere un avversario diretto quindi anche noi l'ultima abbiamo una partita balorda andiamo a Seregno contro San Giuliano eh dipende sempre speriamo di essere tutti a posto e e di fare salamelle e patatine speriamo va beh insomma dai va beh allora su un po' di allegria Ale ti vedo non ho stato io volevo volevo vederti al gol eh diciamo che si è sentito di fianco qualcuno ha sentito anche le mie mani che ieri sono state un po' pesanti al gol diciamo che mi è cambiato proprio l'umore siamo passati poi per me col Novara è il derby assoluto siamo passati dal vincerlo con Gollinico a prender gol al novantesimo però c'è anche da dire che una squadra che fa un cambio mi viene in mente esce Ciancio entra Lazzar si riscrive da solo probabilmente nel montegaggi di tutta la propazia che poi ha fatto tre metri nei tre cross però intanto comunque vabbè giusto per far capire però nota positiva siamo usciti da un periodo con quattro sconfitte consecutive siamo riusciti a interrompere questa serie contro una signora squadra contro una signora squadra in un momento non favorevole dal punto di vista psicologico dal punto di vista fisico e secondo me si sono visti sprazzi di ripresa anche atletica e mentale di giocatori fondamentali come appunto Nicco Ferri anche lui perché è stato tra virgolette un po' su quella fascia oscurato da Piran però Ferri ha fatto una signora partita anche lui ieri secondo me quindi l'importante magari già da domenica ad Alessandria contro la Juventus Next Gen ore 12.30 cercare di dare continuità portare a casa anche un punto sarebbe ben accetto e poi tra l'altro ricordiamo che appunto Piran ha giocato e magari giocherà domenica comunque vedremo chi ha sinistra perché purtroppo Andrea che è stato espulso a Trieste ha preso due giornate si è spenta proprio la luce peccato lo aspettiamo a rientrare aveva bisogno di rifiatare un po' va bene siamo arrivati in fondo alla prima parte un attimo di pubblicità e poi si riprende seconda parte di Biancoblu seconda parte che dedichiamo alla partita di domenica l'ultimo turno quest'anno c'è stato l'ultimo turno infrasettimanale è andata come è andata ma abbiamo mosso la classifica l'abbiamo detto prima quello era importante di interrompere quel trend negativo poi però analizzando abbiamo perso quattro partite di fila dove potevamo arrivare con quattro pareggi ma se l'abbiamo perso motivo c'è io ragiono sempre così mi convince sempre purtroppo io vorrei vincerle tutte però quelli che dicono se coi se no hai ragione però per esempio a Trieste ha perso meritatamente lì non c'è da dire e con una grandissima veramente grandissima direzione arbitrale l'ho salutato l'arbitro esatto anche io l'assistente lui ha ricambiato sì sì gli ho detto proprio così si arbitra in serie C complimenti visto che sono i professionisti ci bastano arbitraggi del genere l'arbitro proprio in campo bene anche col piglio giusto lo sguardo giusto veramente mi è piaciuto molto bene ma anche quello di mercoledì non fa niente da dire assolutamente va bene allora Andrea vai partiamo con la Juventus Next Generation che ha gli stessi nostri punti 44 punti in classifica e l'allenatore è Brambilla Massimo Brambilla e ovviamente c'è sempre un turnover perché come sempre spesso tanti giocatori che ci hanno affrontato nel giro dell'andata vanno in prima squadra quindi non si sa mai bene la classifica la formazione posso dire una cosa su Massimo Brambilla era fortissimo ma è anche un grande allenatore è una mia a me piaceva come giocatore assolutamente dal punto di vista dei risultati nell'ultima partita infrasettimanale ha vinto a Vercelli per 1-0 quindi arriva nelle ultime tre partite da una sconfitta che ha perso a Novara 2-0 aveva vinto in casa contro l'Albino Leffe per 2-1 e ha vinto l'ultima a Vercelli per 1-0 quindi comunque arriva da un periodo positivo a proposito di cadute libere attenzione alla Provercelli la vedo non benissimo contro la loro attaccante che ha segnalato di più Pecorino è attualmente infortunato aveva segnato 6 gol generalmente stanno giocando nelle ultime partite e anche Yocolano che infatti Yocolano seriamente ha finito la stagione loro giocano generalmente nelle ultime partite con un 3-5-2 e i giocatori più importanti sono in difesa abbiamo Poli che è un over un giocatore quindi fuori quota over over che io lo prendevo sempre a fantacalcio con Carpi con Carpi un giocatore di esperienza che guida la loro difesa a centrocampo abbiamo Sersanti che è un giocatore che noi abbiamo già affrontato contro il Grosseto perché infatti ha fatto un'ottima stagione a Grosseto un classe 2002 un centrocampista che poi è stato acquistato e già nell'ultima stagione era la Juventus accanto a lui c'è un giocatore che quest'anno sta giocando molto bene che è Besaggio che è un classe 2002 ha giocato nelle giovanili del Genoa ha già fatto 5 assist e tanti osservatori comunque lo stanno guardando e ha fatto anche delle convocazioni in prima squadra ha fatto anche l'assist per il gol contro la Provercelli nel reparto offensivo invece a parte Compagnon che alcune volte gioca con la prima squadra e alcune volte gioca invece ancora con la Juventus Next Generation quindi infatti non sappiamo se giocherà o meno quale sicuramente gioca l'attaccante Cerri che è alto 1,97 classica prima punta di riferimento in gol contro la Provercelli e accanto a lui dovrebbe giocare Kudrig attenzione ai tuffi di Kudrig che l'anno scorso ci ricordiamo bene molto bene l'avevo rimossa no no hai ragione Cerri ma Cerri è parente dell'altro Cerri no no anche lui uno scuola Juve però tutti e due centravanti è grosso come non mai tra l'altro alcune volte lo chiamano il Tony della Juventus Next Generation proprio perché 1,97 punto di riferimento forse sì e no comunque anche Barreni e Cerco visto nella grafica ormai Allegri ci sta puntando tanto la Juve tra l'altro Juventus quella vera perché non ha riputo vera questa giocherà domenica sera a Milano con l'Inter quindi chi sarà convocato a Milano ovviamente non sarà della partida Alessandria Barreni e Cerco ultimamente sta giocando molto e a proposito di Propatria di gente che gioca ieri sera a Friburgo ha giocato Gatti dal primo minuto quindi una bella soddisfazione Barreni e Cerco era davanti a noi all'andata sì sì era squalificato io ho i suoi pantaloncini e sorseggiava il mate questa bevanda argentina che non ho mai capito però grazie al fatto che lui è salito sulla prima squadra è esploso besaggio che invece tanti osservatori e articoli ne parlano molto bene io non è che ami le squadre B c'è da dire che stanno tirando fuori dei giocatori importanti sì sì e Castanos è andato in Serie A la Salernitana e mi ha colpito perché sono andato a vedere la partita del Milan contro la Salernitana due anni fa giocava contro di noi l'avevamo presentato e poi è stato ceduto è andato a pescare è andato a Salerno sbagliando un bel gol contro il Milan perché ha visto più partite del Milan che della Propatria eccolo lì va bene eh va bene insomma bene altre cose sulla Juve Nets 12-30 mi raccomando visto che Andrea è un esperto di gufate ce ne sarebbe una ad Alessandria Colaiu non abbiamo mai vinto però avevo promesso di non dirla avevo promesso di non dirla vabbè diciamola tanto ormai però è uscito il tigrottino in formato digitale con la bella gufata di Scalvi anche lì che è stata azzeccata perché con il Novara il Novara era l'unica formazione che non aveva mai pareggiato in trasferta aveva vinto 6 volte e pareggiato e sconfitto 9 volte eccolo lì e all'ultimo è andato a Vutai prima di entrare l'ha letto il tigrottino vabbè noi ridiamo perché insomma questa settimana qua un po' la soffriamo ancora però vedere questa foto qua questo era un bel centravanti questo è il vero centravanti con quel sinistro incredibile e quel modo di adesso sarebbe non politicamente corretto vabbè ho capito però quella esultanza però ci ha fatto divertire quegli anni a Novara lo conoscono bene eh sì sì grande grande formazione di domani eh beh insomma di domenica di domenica allora Porta del Favero in difesa allora Saporetti sicuramente infortunato non recupera mentre Lombardogno in dubbio però più no che sì dovrebbe essere a disposizione ma non titolare quindi probabilmente secondo noi dovrebbe giocare Molinari sulla destra oppure Sportelli centrale Boffelli e sulla sinistra Molinari visto che lui spesso viene messo anche a sinistra poi in fascia Perotti in modo tale che dà un cambio anche a Dezzoni il centrocampo Nicco Bertoni e Ferri e sulla sinistra Piran confermato mentre davanti probabilmente Stanzani ci hanno già deciso Piran confermato confermato sì anche la buona prestazione forse ti dico la verità è l'unico del quale sono sicuro nell'undici perché anche su Del Favero ho qualche dubbio sai su tre partite in una settimana no però secondo me non fa turno contro la Juve non lo fa giocare contro la sua ex mercoledì c'erano voci di Mangano sì sì esatto c'era l'idea che potesse giocare Mangano e quindi cioè di giocare Mangano domenica o giocare mercoledì no no già mercoledì c'era il dubbio e andremo a vedere tra l'altro Del Favero è diffidato lo ricordiamo quindi in caso di ammunizione non ci sarebbero dubbi prima o poi comunque in attacco Stanzani quasi sicuro e poi ballottaggio come prima punta tra Castelli e Piu ecco sulla difesa c'era una variazione potenziale cioè che giochi Fietta centrale difensivo e quindi in questo caso giochi Molinare sulla destra Fietta centrale e Boffelli sulla sinistra infatti ti dico forse l'unico veramente certo è Piran perché non ha poi un sostituto reale di ruolo io se dovessi scommettere fare secondo me Fietta gioca centrale difensivo insomma vediamo noi io mi adeguo perché il nostro allenatore ha dimostrato di saperci fare e di saper gestire il gruppo a delle sconfitte che non succedono tra l'altro molto bello l'abbraccio di Nicco a Vargas in occasione del gol è vero è vero è andato sotto la cura e poi è andato a abbracciare il mister un abbraccio ma tutte le voci che ci sono state sono tutte voci che sono folli beh il gusto è veramente una cucina di voci di cose folli 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 calcolando quello che fino a un mese fa ragazzi eravamo che se vinci con la pergolettese eri primo in classifica ragazzi settimana scorsa ho fatto il solito video a mente fredda che trovate sui nostri social sia su Facebook molto bello che Instagram abbiamo raggiunto praticamente 2000 visualizzazioni quindi volevo ringraziare tutti si parla appunto delle voci che a gusto girano ormai da 30 anni che forse sono di più e sono veramente possiamo dirlo delle idiozie pure quindi pensate e pensiamo a tifare la propatria tu pensa che quelle 2000 che ti hanno visto se fossero allo stadio tutte le domenze io penso parlassi di ragazze ma era che voce ragazze ah a voi avete tutti i dati lì quindi non è come io non capisco niente vado lì io non capisco ma voi avete tutto sotto controllo purtroppo non così tanto ah ok però no Andrea ha ragione basti vedere i commenti quanti anche come numero si sono visti quando abbiamo vinto col Vicenza che avevamo a meno 4 punti poco o niente esatto con buona pace dei soliti pessimisti che abbracciano la mediocrità e invece i commenti che abbiamo dovuto leggere dopo Trieste tra l'altro anche da parte di alcuni profili fake che probabilmente ci stanno bene o male sappiamo chi sono comunque noi parleremo sempre di propatria però dopo i 20 minuti sono passati nel bene e nel male ma sono anni che stiamo parlando talmente bene e ne andremo avanti a parlare e siamo soprattutto tanti non se lo ricordano siamo semplicemente tifosi non siamo addetti ai lavori assolutamente quindi tante volte diciamo delle sciocchezze tante volte ci azzecchiamo perché noi sul campo ci andiamo quindi buona serata ok grazie Andra Macchi buona serata a tutti Sandro Bianchi e buona serata a tutti a TG7 Busto subito dopo di noi buona serata a TG7 Busto 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 a TG7 Busto